ciao sono laura da genova volevo ringraziare la samovar per avermi fatto passare una settimana penso che era tantissimo che non passava una settimana così a bordo della msc si sai e ragazzi la crociera fantastica è andato tutto meravigliosamente bene mi sono divertita un sacco eravamo io e mia figlia e niente c'era divertimenti per tutti è un servizio eccellente a bordo si è veramente sicuri e si sta veramente bene abbiamo fatto un bellissimo giro abbiamo fatto taranto siracusa siamo scesi in escursione con msc tutto organizzato magicamente e magistralmente dalla martina che mi piacerebbe tantissimo conoscerla vis a vis perché la sento sempre al telefono ed è fantastica gentilissima maurizio pure della samovar ragazzi fatemi viaggiare perché la testa viaggia viaggia ma voglio viaggiare davvero davvero perché è meraviglioso viaggiare vi ringrazio tanto ragazzi grazie